Eh, lo sapevo che c'hai l'occhio grande pure. Attenzione, codice barra annuncia di essere solo come mod, CugiroRap controlla effettivamente è così. Qualcuno vuole fare da mod insieme a lui? Attenzione, CugiroRap sta dando il mod a qualcuno dalla chat casuale. Chi vuole il mod scriva io in chat e sarà mod solo per questa live. Bene, Onyx ha ottenuto la chat, tutto il mod. Perdo il VIP, perdo il VIP solo per un giorno di mod. Pensa te. Bene, CugiroRap si sta concentrando, vuole le 5 stack per ingaggiare su Yasuo. Aspetterà il livello 2 però per farlo, sappiamo già, leggiamo la mente di questo giocatore, invece no, cerca di fare la Q. Manca un minion, sale al livello 2. Ecco qua che abbiamo, il livello 2 di questo Pantheon. Un cavallo pazzo ha deciso di gankarlo dopo solamente un campo, va bene GG. La partita è tutta aperta Purtroppo non è andata a buon fine La W di Panto non è partita come voleva Cugino Rapp Si era immaginato la cera leggermente diversa Attacco base W invece non aveva le stack Non scherzo dovevo dormire Va bene Grazie mille comunque Va bene Ekarim sulla schiena Ma non importa Noi non ci arrendiamo così Perché gli spartani non si arrendono mai ragazzi Gli spartani vanno dritto al punto Sappiamo bene tutti la potenza Di questi Essere i viventi Bene va bene Gesù si crede forte in questo momento Ha fatto la kill Ma ancora non sa che è inferiore Se facciamo così tutti i mod tranne me Escrivo cose proibite e voi dovete bannarmi Adesso esistono ancora gli spartani Non penso che Sparta sia caduta ancora dopo 2000 anni Esiste ancora la città di Sparta Pensate un po' E invece non esiste Troia Non si chiama così Quindi ha fallito Affanculo Attenzione Ekarim di nuovo ci voleva riprovare Viene spottato da Pantheon Ekarim il cavallo pazzo Vuole gancare il suo amico Yasuo Ma adesso non si fa sganare questo Pantheon Yasuo con un Doran Blade di vantaggio Vediamo un po' come andrà a finire GeoRap lo lascia pushare GeoRap lo lascia pushare Non credesse molto Attenzione Yasuo Viene ingaggiato Ok Ok Sono allo stesso livello Ecco Pantheon che riesce a ribaltare la situazione E si porta a casa la sua kill Finalmente La situazione è stata ristabilita Pantheon si trova anche con la ulti Potrebbe cercare una ulti botlin No Decide di andare back Non ha abbastanza mano Per fare tutta la combo Va bene GG Auguri a Sukuk Rompe gli anni 26 anni GG Bravissimo Peccato che non abbia portato la torta Ma va bene comunque È proprio un caro ragazzo A compiere gli anni qua da noi Quanto si dirige verso la botlin Vuole ultarli Potrebbe essere una ulti decisiva Quella su Caitlyn Potrebbe portare a una kill Attenzione Fu subito kill Su questa Ed è doppia Per lo Spartano Furioso Ecco qua In grandissima parte Merito di Morgana GGVP Eccovi il replay Ragazzi dalla regia Questo caster Questa regia E questo giocatore Mamma mia Non lo so Ivan Forse sì E prima che gli dico Gino Mi giuro Buonanotte Sukuk Grazie a essere stato qua con noi In questo momento Lo score della partita È lo score di Pantheon Coincidenze Attenzione Cugino Rapp ci ripensa Non vuole più recollare Gino Rapp vuole soddisfare La sua community Specialmente Questa ragazza Che si sentiva insoddisfatta Le ha dato ciò che voleva Speriamo di sì Ok Buono Farmiamo La situazione si è completamente ribaltata Questo Yasuo si ritrova un po' alle strette Ora il Pantheon è 3-1 E sta per cambiare sedia Attenzione Attenzione Mi siedo su Anakax Allora Benissimo Ma io non capisco Cosa ha fatto questo Ekarim Secondo voi Ha intato Ultimo romantico Si chiama Ekarim Ultimo romantico Buonasera Killer Buonasera Williams Tutto bene Tutto bene Oggi live abbastanza chill Io parlo e voi donate Buonasera Clefeville Buonasera anche te Sai di stasera questa Sera il format Siamo intanto top lane Adesso cerchiamo di aiutare Il nostro Luca Ulti in 5 secondi 4 3 2 Attenzione Luca da solo Non ha bisogno dell'aiuto Arriva Pantheon Il gank Potrebbe essere Anche una seconda kill Potrebbero trovarla Stund Di Pantheon Silenced Di Garen E fu così Che viene terminata Anche l'esistenza Di questo Yasuo I due fratelli Non possono niente Contro la potenza Di Demacia Di Sparta Stundigali sul Giorgio Toglie la Barriera protettiva Del Giorgio Tempo di attaccarlo Ciao la sub Clef e Vilti Oggi hanno donato le sub Perché oggi era La serata Delle donazioni Infatti Vedi da titolo Puoi immaginare Vieni qua Vieni qua Yasuo Adesso Yasuo ha paura Sai che questo Pantheon È 4-1 Lui è 0-2 Non può nulla Ha bisogno ancora di 8 morti Prima di arrivare Al Power Spike Ma non vuole farle su Pantheon Ha paura ovviamente Sono confusa Asuku pure una ragazza Allora ci dispiace Avere la chiamata Con Epiteti Maschili Non lo potevamo sapere Ovviamente da una chat Vediamo troppo cose per scontate I giorni nostri Vero ragazzi Questo Yasuo Cerca di fare Di ondeggiare tra i minion Ma la cosa non basta Questa è un po' la tecnica Di colui che Che fa tutto Wazzata Wazzata E poi non riesce più a fare niente Ecarim Ultimo romantico Il suo nome Molto bene Pantheon Trova lo stun E riesce A bastonare questo cavallo Lo punisce Con una lancia Proprio lì Sul sederino Ciao Vendislover Grazie mille del follow E anche Di essere Venuto qui O venuta A sto punto Non lo sappiamo più Cazzo Ci ha provato Questo Questo Pantheon Furioso La combo dei fratelli Non si scappa Non si scappa Va bene Va bene Attenzione In arrivo Trandol Che non si spaventa Di fronte ai due fratelli Ioni Iesu E attenzione Se ne magna uno Ma non riesce a magnarsi Anche l'altro Arriva Ecarim Che decide di Farmare E tassare la lane Tempo di comprare I tabi Per questo Per questo Pantheon Molto efficaci Contro il team Avversario E ovviamente Dopo ogni morte Con Pantheon Cosa bisogna fare ragazzi Gankare Botlane Con la ulti Devo passare più spesso Nel live di Chiusini Mi sento felice Grazie Mi fa piacere Mi fa piacere Attenzione È stata presa Caitlyn Ulti di Pantheon Slowata Come una puttana Purtroppo Purtroppo Sta maxando Per il spell Bagliata Cugino Se ne accorge Vediamo se Se lo ricorderà Attenzione Morgana Continua Quello che Un'ottima azione GG per Morgana Un ottimo support Davvero da onorare Oddio Bentornato Rescattato Che cazzo c'è qui Muro di vento Per parare la lancia Di Pantheon Incredibile 3 kill Per il nostro amico Ione Interrotta La serie di decisioni Di Ione Immediatamente Da Pantheon Insieme all'aiuto Di Morgana Trando le gare Ovviamente Catelyn Tanto in chat Scrive Thank you for reporting Mid and jungle Si sente così forte Vediamo il suo score 0-2 Allora forse È soltanto Rosic Si aspettava Di essere carriata Forse Finalmente la mia Pike song By the way Sei contento Di Ode Sono Mi piacere Mi fa piacere Arriva il teleport Di chi può essere Se non di Ione Attenzione Combo dei fratelli Riuscirà questo Pantheon A portarsi a casa Una doppia No purtroppo Il Triumph Non è nelle sue rune Quindi non riesce A ricaricarsi La vita di quel che bastava Ma comunque Era troppo indietro In questo momento Attenzione Pantheon Decide di buildarsi L'idra famedica È quasi molto vicino Ok Perfetto Perfetto Ci siamo Ragazzi Guarda sempre I video su youtube E già ti conosco Anche se tu Non conosci me Mi fa piacere Quindi tu mi vedi Su youtube Su l'uncut Immagino Ok ok Comunque ragazzi Volevo anche Vivere una roba Avete presente Tutti i replay Che vedete No ecco Questi replay Vengono creati Si formano Come delle piccole clip Quindi potrei fare Dei video su youtube Solo di queste clip Solo di questi replay Sarebbero molto chill però Che ovviamente Non ci sarebbe troppo editing Capito codice bar Va bene Da oggi Un nuovo moderatore Sta per moderare la chat Al posto di codice bar Attenzione Ulti di pantheon Botley Non viene spottato Nemmeno dalla pink Bravissimo A fare la ulti In questo punto Forse solo fortunato Viene stunata Caitlyn che Viene interrotto Pure il rettino Si sente l'animazione Ed è subito lancia 800 danni Sulla schiena di Caitlyn Troppo pesanti Per un champion Fragilino come lei Ok Ti fai i replay del mese Con della musica Lo fai tipo Salvini Che elenca cose Uh bello Attenzione la lancia Peccato che non avevamo Le cinque stack Altrimenti potevamo Farcela Se ne giro come chat C'è qualche volta che ho tempo Non sei in live Ma a me ne sfiace Tu a che ora guardi In live? Cioè a che ora guarderesti? Ione Sparisce così Flash di pantheon Per salvarsi E far morire il suo compagno Ottima scelta Scelta che non mi pento Di definire saggia Garen vuole salvarsi Vediamo se ce la farà Usa la sua carica Della Q Attenzione Iore ci prova Ma fallisce miseramente Vanno tentativo Ed ecco qui Il nostro Garen Saltellare I nemici Spariscono Stavano vincendo il fight E improvvisamente Lo hanno perso Avrebbero potuto fare qualcosa di meglio Invece no Cazzi loro Tutto bene Slender Comunque Stasera siamo Incazzatissimi Questo ultimo game Sì ragazzi Dopo questo giro di palline Quale canzone possiamo mettere Di sottofondo? La Yumi Song in inglese Dai La mettiamo da un po' E' subito la volta Di andare verso La danza della morte Per questo pantheon Quella di bike La saltiamo da sempre Va bene Va bene Quella di bike Di nuovo Anche stasera Terza sera di fila Pike Song durante le palline Ulti di pantheon Attenzione E' così Che si presentano I due fratelli Non possono vincere questo match Poverini Io negli auto ragazzi Loro prendono questi champion Pensando Ah sono fortissimi Poi si beccano contro Garen Pantheon E vengono asfaltati Deletati Disintegrati Massacrati Disintrutti Mi sposo La Pike Song Io mi italiana Grande Luca La di Pike è la migliore Poi quando arriva Quella di Eve Butterò la Pike Song Nella monnezza E quando arriva La tapparella Song Cosa fai? Mi tapparello Ottima risposta Grazie Veas Ragazzi ricordiamo Che siamo in pre-made Con Garen Giusto? Sì Ovviamente non potevi Non essere tu Garen Che è Luca97Gavi Ragazzi In chat Per chi non lo sapesse Uno dei top donator Del canale La tapparella Song Mi se Ah no Ok Non facciamo cose brutte con le Song Specialmente Con la tapparella Song Attenzione è stato rubato Il Red A questo povero Pando Che si trova Trafitto Da quelli che sono i nemici Gli avversari La foto di Lux E questi qua Si trovano Due V3 Garen E Trandone Alle prese con questo match Attenzione è cattivissima Ulti di Garen Doppio per lui Trivella Su quella Lux Q Che prende due persone Q Catering che non fa danni Garen che fa tripla Champion bilanciato 200 anni Da parte della Riot Dove cazzo è andata Catering flash Diventa invisibile Nuova abilità Da lavoro tutto il giorno Quindi non ho quasi mai tempo Quelle poche volte che ho tempo Gioco a lol Ah ok Io per esempio Pensavo Verso metà marzo Di cambiare un po' Il mio orario di streaming È di fare 18-22 So che molti di voi Mi hanno detto Che non riuscirebbero a seguirmi O comunque preferiscono 22-1 di notte Però voglio sperimentare Una settimana ragazzi Faccio una settimana Dove faccio quell'orario lì E vediamo come va Perché l'unico modo Per capire è provare Ok Poi è ovvio che Alla fine uno Deve fare un po' Gli orari che gli pare Ok Però Se io voglio Anche comunque Mantenere un buon rapporto Con i ragazzi Che possono seguirmi Solo la sera Meglio fare così ovviamente Eppure No Non farei concorrenza Monni Perché Monni Presto inizierà A fare anche altri giochi E comunque La mia community È diversa da quella di Monni Abbiamo davvero poche persone Che magari si condividono E poi Non impedisce a nessuno Di guardare due live Stava ballando Ma ormai era troppo tardi Avrebbe dovuto ballare prima Se proprio voleva farlo con me Attenzione ulti di Pantheon Per chiudere la strada Questo Yasuo Lo becca quasi in pieno Oh bellissima Ulti Per chiudere la strada Open mid and fast Si è Katrin 0-5 Dalla sua Gianni si è resa Il suo destino Si Attenzione è tornato Giamo fisico tra i mod Venera andato Ma torna Fa finta di niente Non dice nemmeno niente È un conflitto di interessi Guarda Comunque pur Io e Monni Abbiamo Anzi Monni Preferisce che io Stiamo al suo stesso orario Sai perché? Perché così dopo Lei dice Eh così abbiamo più tempo Da passare insieme Ovviamente Lei è contenta Però Sì Comunque sia Vedremo Più che altro sai cosa Se finisco Se ho fatto già 18-22 Dopo A mezzanotte Io mi metto a letto Dalle 8 di mattina Sono già sveglio E produttivo E faccio tanti contenuti Perché quello che mi manca a me Come content creator È fare contenuti originali su YouTube A parte le canzoni che già faccio Ovviamente Poi ovviamente non le faccio io Però Sono quello che paga Per fare in modo che esistano Buonasera Ramiel Ovviamente voglio anche altri contenuti Che Non ho mai tempo di farli E non riesco mai a trovare il tempo Di fare le cose Perché magari Ovviamente dopo le live Non ho tempo Vado a letto Sono stanco La mattina mi sveglio tardi Poi sono poco energico Perché magari mi sveglio tardi E se io voglio farvi divertire ragazzi Bisogna di essere Prima di tutto Di ottimizzare il mio tempo Attenzione Proposta in chat Puoi sederti sotto di me Mentre giochi alla play Poi accettereste Non ha voluto ballare con me Allora l'ho uccisa GG ragazzi Very fucking nice E vanno a vincere Luca e Garen Questa partita Luca e Garen Rap e Luca Ma che cazzo GG per Luca Very very nice Questa partita Abbiamo scammato Un po' di nemici U21 LP Attenzione Very nice Bella partita ragazzi Dov'è? Bella partita Ekarim Osgood Facciamo i complimenti A questo Ekarim Che altrimenti Da potuto si chiamava Ultimo Romantico Quindi è un bel nome Ovviamente i danni Sono dai campioni Più bilanciati Thank you for reporting Gim Fai caccare zio Ma dai Poverino Non è andato male Erano Yasuo E Ione I problemi Poverino il cazzo Ma Ecco Avevo detto Non niente italiani Aspetta Isaac Vieni ad andare Perché lui è solo Yasuo Eh vabbè Cosa ti aspettavi Comunque Se vuoi Comunque Eravamo in live Eccoci Saluta tutti Molto cringe Questo momento